Ragazzi guardate cosa ho trovato Ho trovato la nuovissima caverna di Ametista Oh mio dio Oh mio dio questi sono i nuovi blocchi E il nuovo materiale Scaviamo subito Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi ci troviamo con lo snapshot 20w45a Ovvero il primo snapshot per la 1.17 di Minecraft Non vedo l'ora di aggiornare il mio mondo alla 1.17 Però attenzione non sto utilizzando il mondo più aggiornato in assoluto Perché ho fatto delle modifiche proprio ieri e non è ancora uscito quel video Quindi aggiorneremo un altro mondo Per cui questo è un mondo copia Ok questo è un mondo della 1.16 Sì so quello che sto facendo Aggiorna Come vi dicevo questo qua è il mio mondo di Minecraft ufficiale Però è una copia Quindi in questo video probabilmente andrò anche in creativa Proprio per farvi vedere tutte le novità che hanno giunto nella 1.17 E soprattutto non voglio spoilerarvi cosa ho combinato qua Perché tra qualche giorno lo vedrete Allora 1.17 Che cos'è l'1.17? È l'update delle caverne Finalmente hanno migliorato le caverne di Minecraft E quindi ovviamente oggi dobbiamo assolutamente andare in caverna Ma prima di andare in caverna facciamoci una bella riposata Perché siamo stanchi morti È notte E voi quello che dovete fare è immediatamente lasciare un mi piace a questo video Cioè io ragazzi Cosa sto facendo qua altrimenti L'update è uscito proprio ieri Quindi adesso al momento sono le 8.20 del mattino Sto registrando questo video oggi Il 5 novembre E cercherò di farvelo uscire proprio oggi 5 novembre Quindi se non riempite questo video di mi piace Io Io Distruggo tutto No non distruggo nulla Non vi preoccupate È il mio mondo di Minecraft Figuratevi se lo distruggo Però come vi dicevo questa è una copia Quindi anche se dovessi andare in creativa Non vi preoccupate Allora prendiamo Prendiamo tantissimo tantissimo carbone Perché ho bisogno di tante torce Visto che dobbiamo entrare nelle nuove caverne Ora io non sono sicuro che abbiano già aggiunto Il sistema delle caverne più larghe Quindi quelle che abbiamo visto nel Minecon Perché le nuove caverne ragazzi In realtà sono ampissime Ma a noi interessa vedere se hanno aggiunto I nuovi materiali Perché loro hanno promesso Che sto facendo? Sono le 8 del mattino ragazzi Sono un po' rincretinito Scusatemi Come vi dicevo loro hanno messo Dei nuovi materiali Hanno aggiunto L'ametista Che questo è un materiale che noi fino ad ora non abbiamo avuto E anche il copper Cos'è il copper? Semplicemente il rame Il rame che ci hanno fatto vedere Si può utilizzare come acchiappa fulmini Quindi io potrei mettere un'antenna di rame sopra la mia casa In modo tale che i fulmine vadano sull'antenna di rame E non bruciano tutto quanto il mio mondo Probabilmente la metterò tipo sopra la montagna Da qualche parte In modo da evitare che succedano degli altri incidenti Come qualche anno fa Che un fulmine è caduto sul ponte E stava rischiando di bruciare tutto ciò che avevo costruito Comunque Come vi dicevo dobbiamo andare in caverna Quindi Credo di dover trovare una caverna Che non ho mai esplorato Quindi non possiamo andare in una caverna Che ho già esplorato Ovvero una caverna vecchia Dobbiamo trovare una nuova caverna E dobbiamo andare alla ricerca dell'ametista E del rame Ma sono sicuro Candela? Posso craftare una candela con della cera E una stringa Una cordicella Ok io non ho ancora la cera Perché non ho mai trovato le api nel mio mondo O almeno le ho trovate Ma non sono mai riuscito a prendere la loro cera E il loro miele Però visto che questo qua è un mondo copia Quindi non è il mio mondo ufficiale Andremo in creativa sicuramente verso metà video Proprio per provare tutte quante le novità Ora voglio vedere quanto è difficile effettivamente Trovare tutte le cose nuove Quindi io ora entro in caverna E cercherò di andare alla ricerca Ok qua Bene va bene Allora scendiamo Ehi se la caverna finisce Dobbiamo crearcela noi la caverna Ci basterà semplicemente scavare in questo modo Devo ricordarmi di piazzare le torce Perché non ho l'ho Optifine E quindi la torcia Tenendola in mano Non funziona automaticamente Come faccio di solito Perché io di solito Tengo la torcia in mano E illumina tutto quanto il mio cammino Ma quella è soltanto un'opzione dell'Optifine Essendo questa una versione nuovissima Che è praticamente appena uscita È uscita tipo 4-7 ore fa forse Sì perché è uscita ieri notte Essendo uscita da così poco tempo Ovviamente ragazzi L'Optifine ancora non esiste Quindi cosa stiamo cercando noi ragazzi Stiamo cercando il nuovo materiale Ovvero il rame E soprattutto dobbiamo trovare Una caverna di ametista Ovviamente per chi non sapesse Come funzionano gli snapshot Non metteranno tutte le cose Di cui hanno parlato tutte adesso Le metteranno pian piano Tipo la prossima settimana Uscirà un altro snapshot Con degli altri aggiornamenti E così via Il problema è che A dir la verità Io non ho la minima idea Di che colore abbia il rame Dovrebbe essere tipo Un po' arancione Se non sbaglio Cioè io al momento Sto trovando soltanto Del ferro Che è comunque Diciamo arancione Ma rame Zero Quello è ferro Non è rame Cioè questo è ferro no? Ok non c'entra nulla Con il rame Oh Va bene Nel frattempo abbiamo trovato I diamantino I diamantiche In realtà come vi dicevo Non ci servono Perché questo qua è un mondo copia Però vabbè Noi li prendiamo lo stesso Beh non sto avendo molta fortuna Ora O sto sbagliando totalmente La profondità delle caverne Magari sono troppo in basso Trovato! Non ci credo Ok l'ho trovato Abbiamo trovato Il rame Eccolo qua Beh una bella vena Da quanti blocchi? Eh così tanto? No non ci voglio credere Aspetta quanti sono? 8 Ho trovato una vena Da 8 di rame Ok 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 Possiamo provare a cucinarlo Quindi già immediatamente Mettiamo subito La nostra crafting per terra No di più 9? Una vena da 9? Facciamo la fornace Mettiamo il nostro rame E lo facciamo cucinare Ok si cucina praticamente Nello stesso identico modo Dell'iron e di tutto il resto E qua ce n'è dell'altro Non ci posso credere ancora Ok Beh devo dire che Sono andato praticamente A fine mappa Ed ecco il primo lingotto di rame Però non mi ha dato Ah ecco me l'ha dato L'aggiment infatti Immaginavo Ragazzi Ragazzi Guardate cosa ho trovato Ho trovato La nuovissima caverna Di ametista Oh mio dio Oh mio dio Questi sono i nuovi blocchi E il nuovo materiale Scaviamo subito Ok Vediamo 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 Cosa ci da Blocco di ametista E poi anche pezzo di ametista Wow Non ci credo L'ho trovato Aspetta io ho anche un piccone Con silk touch Cambia qualcosa Mi sa di no Mi da soltanto i blocchi di ametista E basta Giusto Sì infatti Sì infatti Non ci posso credere Il tutto vicinissimo Al mio rame Il rame invece è qua sotto Ora abbiamo i blocchi Posso fare già direttamente La Sì posso farlo Ragazzi Non ci voglio credere Posso già fare La chiappa fulmini Questo lo dobbiamo testare Questo va testato Sì 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 L'ametista invece con l'ametista Cosa posso craftare Qualcosa Posso craftare Vabbè i blocchi di ametista Se unisco 4 shards Però con i blocchi di ametista In sé non posso ancora farci nulla Mi sa E soprattutto Non hanno ancora aggiunto Il nuovo mostro Il warden Ok credo sia arrivato il momento Di tornare a casa Ok eccoci qua Io adesso voglio testare Questo qua La chiappa fulmini Per farlo però Ovviamente Ho bisogno Di una tempesta Una tempesta di fulmini Quindi quella la devo mettere Io con i comandi Allora io lo voglio Mettere qui al momento Perfetto Quindi ora devo fare Weather Thunder Ottimo Tra non molto Dovrebbe iniziare a tuonare I fulmini dovrebbero essere Acchiappati Totalmente da questo Acchiappa fulmini Oh Ovviamente vabbè I fulmini nelle vicinanze I fulmini là sotto No Oh L'avete visto Quindi ragazzi Questo è la chiappa fulmini E durante una tempesta Tutti i fulmini Nelle vicinanze Cadranno esattamente Qui Beh comunque Abbiamo visto che questo qua Funziona alla grande L'unico problema è che Ne servono tanti E li devi mettere Tutti in giro Per il mondo Altrimenti I fulmini troppo distanti Poi non vengono catturati Adesso quello che voglio provare A craftare Sono le candele Però purtroppo Come vi dicevo Io non ho La cera Non ho neanche il miele Nulla Per cui dovremmo andare In creativa A prenderli Ma tanto ragazzi Questo è un mondo copia Come vi dicevo Quindi Oh Esistono di tanti colori Cosa Aspetta Aspetta Servirà ovviamente L'accendino Però forse anche con le mani No Con le mani non va Così Ok Ok Oh mio dio ragazzi Ecco a voi Le nuove candele Di minecraft Cioè ragazzi Sono bellissime Ma si spengono Così facilmente Oppure Per spegnerle Basta semplicemente Toccarle Quindi come quando Ti bagni le vita E spegni una candela Nella vita reale E io non credo Brucino No No non bruciano Visto Mi ci posso mettere sopra E il loro fuoco Non mi brucia per nulla Strano però Un pochettino Mi dovrebbe bruciare Giusto ogni tanto Sono comunque Delle candele Ok Togliamole Perché le ho presi in creativa Fantastico Che figata ragazzi Finalmente Arriva la 1.17 Io non vedo l'ora Che aggiungano Il nuovo mostro Il warden Quello lo voglio combattere A tutti i costi Lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video E fatemi sapere Se siete contenti anche voi Dei nuovi aggiornamenti Di minecraft Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao